In Regione nelle ultime settimane sono aumentati i casi Covid, oltre 10.000 contagi in sette giorni che valgono una crescita del 57% e portano il numero degli abruzzesi attualmente positivi a 26.000, secondo gli ultimi dati, con un aumento dei ricoveri. Un trend simile a quello italiano, con negli ultimi giorni un aumento vertiginoso ovunque. Anche all'Aquila i numeri sono in rialzo e si registra però una certa resistenza per le quarte dosi. Solo il 25% degli over 80 in provincia ha effettuato la quarta dose, la richiesta nei centri vaccinali è ancora bassa. Più di 5.000 persone chiamate dall'ASL1 hanno rifiutato la vaccinazione e intanto per facilitare l'accesso degli over 60 fragili si è deciso di attivare un servizio, un contact center dedicato che si potrà chiamare per essere messi in contatto con un medico per chiarire eventuali dubbi. All'appello però mancano anche molte terze dosi e i medici ribadiscono la necessità del booster che rafforza la protezione. Noi innanzitutto stiamo cercando di fornire a tutte le persone oltreottantenni, fragili, persone che hanno diritto l'informazione necessaria. È fondamentale fare la quarta dose soprattutto come abbiamo detto per queste persone defedate perché si è visto da studi che sono stati fatti che danno un'ulteriore protezione, un'ulteriore garanzia di non ammalare e soprattutto di non prendere forme gravi. Come avete visto c'è una recrudescenza perché la variante Omicron 4 e soprattutto la 5 hanno un'altissima diffusività, addirittura dieci volte anche di più superiore a quella che aveva la variante Wuhan originaria. Ovviamente per l'autunno ci si dovrà organizzare perché è improbabile per molti che si continui a vaccinare con l'attuale vaccino. Tutti sono concordi sulla necessità di individuare un altro efficace contro le varianti. Ci sarà un'apposita campagna vaccinale sicuramente. Evidente e consistente l'incremento di casi che ci sono stati, addirittura la settimana scorsa è stato il 71% di casi in più, quindi veramente tanti. Io da quello che leggo, soprattutto dagli studi che ci vengono forniti, si sta preparando un vaccino che possa comprendere anche le varianti. Io credo che per l'autunno sarà pronto e comunque immagino che per l'autunno sarà necessaria una nuova campagna contro la vaccinazione Covid, abbinata come sempre a quella antinfluenzale perché dovremo imparare a convivere con questa malattia e direi a convivere per diversi anni.